Mix Mega Mix Sempre su Radio Discount DJ Jesse Diamond On Radio Discount La ragazza mi è romantica ma Pesta di brutto Esatto Altro discorso e altre domande che stanno arrivando E che oltre a sentirti d'estate Alla Baia Imperiale La serata del lunedì Mi sembra di ricordare bene Esatto, perfetto Da otto anni tutti i lunedì sera Ho la mia serata Baia Imperiale E Jesse Diamond è in Friance Dove invito altri DJ o altri Vector Come guest durante il mio show La domanda è Ma Jesse Diamond Oltre a suonare il campanello di casa Sta pensando a fare la producer Con qualche remix Qualche mashup, qualche bootleg Qualche qualcosa di suo Qualche remix di Battisti Aia, aia, mi cadi Io ho fatto DC Trash Stiga Adesso sto lavorando all'ultima Me go Sarà la undicesima Che figui E purtroppo Jesse Diamond crede molto poco Nella discografia Soprattutto italiana E soprattutto DJ Medico Come possesso io Insomma Bene, bene, bene Allora Inizieremo A passare anche Qualche tuo pezzo Perché Devo essere sincero Siamo stufi solo di Mandare roba mixata E quant'altro Noi mandiamo anche I pezzi Le produzioni Dei DJ Che collaborano con noi E siamo molto E siamo molto contenti Altra domandina Che arrivano Specialmente Da Twitter Sei seguita su Twitter Che la metà Basta avanza Ogni volta Che postiamo Una tua foto Soprattutto seguita Dai maschi Arrivano Fior fior di domande Dicono Se sei fidanzata Oppure no Io sono fidanzatissima Ma la cosa Più bella È che sono Veramente molto Non sono solo Fidanzata Sono veramente Convinta della mia scelta Perché di meglio Non c'è E sono molto felice È un periodo Della mia vita Molto felice Jesse Chi se ne frega Tanto noi Non siamo gelosi Non ti preoccupare Allora Ti ringraziamo Per la tua disponibilità E ti aspettiamo Qui con Con I tuoi Pezzettoni Da mixare Qui a Radio Discount Un saluto A tutti i tuoi fans Jesse Un bacione A tutti gli ascoltatori Spero di venire Presto in studio Appena il tempo Me lo permetterà Vi mando un bacione Ciao bella Ciao 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 Ciao